SIGEP 2018 Siamo allo stand della Carpino SRL e ci troviamo in compagnia di Antonio Carpino che intanto salutiamo Buonasera a tutti, grazie Antonio, noi ci siamo incontrati nel corso di Host 2017 in quell'occasione avete presentato quella che è la vostra gamma e quei biscottini personalizzati con il proprio brand che possono lasciare davvero il segno per la fidelizzazione dei clienti oggi al SIGEP 2018 il Salone Internazionale del Gelato, della Panificazione, della Pasticceria e del Caffè che cosa presentate? Allora, vi confermiamo la presenza di Kika che è la società che produce i biscotti ma abbiamo aggiunto altre referenze come i cioccolatini e gli amaretti che danno maggiore visibilità a questa piccola aziendina che pian pianino sta facendo la sua strada Che cos'è Kika? Kika è un'azienda nata per un capriccio di un amico pasticciere e facciamo, facciamo, facciamo e così abbiamo unito i nostri pensieri, le nostre forze per proporre un biscotto cortesia una linea cortesia, un biscotto, un amaretto, un cioccolatino e chissà quanti altri articoli possiamo inserire nel corso dei nostri prossimi anni Ebbene, passiamo invece agli articoli che voi presentate qui al SIGEP 2018 Quali sono? Kika è un giocattolino nostro simpatico mentre l'azienda che ci dà spazio in questo mercato di gelaterie e pasticcerie è la Carpino SRL che produce tovaglioli di carta e pian pianino ci stiamo facendo un po' di spazio con nuovi articoli e quest'anno stiamo proponendo una linea di piatti in cartoncino con la possibilità di stampare piccolissime quantità in quadrigomia quindi la possibilità per tutti di poter avere la propria personalizzazione Ma non solo piatti in carta? No, non solo piatti in carta il cavallo di battaglia resta il tovagliolo 17-17 dove quest'anno abbiamo oltretutto insieme con l'associazione Gelatieri in particolare con l'associazione Ambasciatore del Gelato Italiano nel mondo abbiamo partecipato a una loro premiazione, al loro concorso e noi premieremo con una fornitura di 60.000 tovaglioli ognuno dei cinque vincitori Antonio, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso cui possono contattarvi e richiedere maggiori informazioni sui vostri prodotti, dei preventivi insomma, entrare in contatto diretto con voi? Saremo sempre a vostra disposizione su info.chiocciola.carpinosrl.com Voi però avete anche una pagina Facebook che è molto ricca, è molto curata, è molto animata quotidianamente Proviamo a Carpino SRL, la nostra pagina Facebook e proviamo a invitare Al clic su mi piace e subito dopo nel tasto a fianco sul mostrami tutte le novità quotidianamente in prima vista affinché possano poi avere quotidianamente notizie su ciò che... Qualche novità, qualche novità che di giorno in giorno cerchiamo di mettere dentro Bene, grazie, saluta pure gli amici che sono all'altra parte Grazie, grazie, grazie infinite E noi andiamo via in altro stand per documentare altre novità con telecamera e microfono Non andate via, SIGEP 2018 riserva tantissime altre novità e sorprese